Eccoci qua, ancora una volta. Buonasera a tutti. Dobbiamo prenderci il nostro destino perché quelli che dicono che ci rappresentano, di fatto non ci rappresentano più. Quando è un momento ci lasciano soli, federazioni, unico, oltre. Un mesetto fa abbiamo già fatto l'incontro e io ho ricordato che il 3 dicembre dell'anno scorso è stato pubblicato questo denaro che dice e oggi siamo in rete giornali che il ministro Poletti ha emanato i decreti attuativi che lui e lì verranno pubblicati in gazzetta ufficiale. Questa situazione potrà essere, come ho detto l'altra volta, uno sperleffo. Perché il 3 dicembre la giornata internazionale del disabile fa di diventare ricchi, è diventato uno sperleffo, è stato uno sperleffo. Il ministro Poletti l'altro anno, almeno un anno fa, il 3 dicembre, era seduto al tavolo della Fondazione Santa Lucina e sembrava che era la nostra parte. E adesso, ve lo ricordate, un anno fa, era lì, era quando Enrico stai sereno. Ecco, in un anno quante cose sono cambiate. Il problema nostro è che adesso, se pensiamo, se pensiamo che qualcuno risolverà il problema, noi siamo dell'illusione. Allora, nel bordo, una cosa che quando penso all'uomo fa veramente la oballa, c'è, che cosa c'è? Ci ha detto che il fondo che l'hanno dato sufficienza sarebbe portato a 400 milioni, che già è piccolo rispetto ai 2 miliardi di quali anni fa. Eppure ieri, che stava dichiarare inammissibile, l'emendamento presentato dalla regola argentina per portare a 400 milioni in fondo per una luna di sufficienza. Qui qualcuno para. Qui qualcuno para. Allora, riprendiamoci il nostro destino. Per quanto riguarda l'Ise, sono felice, anche delle persone con le quali non condivido niente. Però, questa è una battaglia unica. La seconda cosa, che approfitto dell'occasione, mi hanno detto che su FED c'è tutto una proliferare delle questioni che permette la nuova delibera della mobilità. Io, nelle forme normali, ho già scritto qui quale settimana fa al Dipartimento e all'Assessorato, dicendo che c'è qualcosa proprio che non va, ma non va proprio nel principio. Nel principio base, che noi non siamo merce di scambio di nessuno. Le promesse che ci ha fatto l'Assessore di allargare il servizio anche per le altre patologie, non è stata attuale. La promessa di considerare le persone al centro del prodotto di bisogno, non è stata considerata. E poi troviamo strane ricongiunzioni, strane glialze, perché i servizi devono servire a disabili e non di certezza. Capisci il concetto? Ecco, infine, per quanto riguarda l'Ise, non possiamo considerare che fino a una certa età abbiamo un diritto e dopo una certa età abbiamo un legittimo interesse. Cioè, ragazzi, se ci sono i soldi, bene. Se non ci sono i soldi, ma sai che è finito di fare? Datti da fare. Grazie a tutti. Grazie.